Caos sul numero di decessi nell'ultimo bollettino regionale sul coronavirus. Ieri figuravano 58 morti, tra cui un 37enne e una 42enne. In realtà le vittime da contare sono 43, la più giovane di 69 anni, la più anziana di 101. Errori di calcolo da parte dell'ASL Toscana Centro che hanno portato ad una situazione paradossale confusa pure negli uffici regionali. Pare, infatti, che tra i dati dei decessi siano state inizialmente inserite anche persone che semplicemente risultavano nelle tabelle in quanto positive al Covid. Sono state così ore ad altissima tensione, con i comuni impegnati a verificare le informazioni contenute nella prima versione del bollettino regionale. Grande agitazione anche negli uffici del presidente della Toscana, Eugenio Gianni, con l'ASL Centro richiamata ovviamente a fare nuovi calcoli. Pretenderemo chiarezza fino in fondo sui disguidi che ci sono stati, fanno sapere dalla regione come riportato da Repubblica Firenze. Dunque non 58, ma 43 i deceduti, comunque tantissimi nel giro di sole 24 ore, se si pensa che il picco massimo raggiunto durante la prima ondata fu di 46 lo scorso 10 aprile, di cui però 19 dei giorni precedenti.